La chiesa di San Bartolomeo all'isola di Berina venne costruita sul luogo dell'antico tempio di Esculapio, dove si trovava l'ospedale dell'antica Roma. La sua storia è molto antica, il primo impianto basilicale risale infatti al 998 e per volere dell'imperatore tedesco Ottone III, che decise di costruire appunto la prima chiesa su questo lato dell'isola di Berina, perché, come ci dicono alcuni documenti dell'epoca, era visibile dall'alto dell'Aventino, dove si trovava il suo palazzo imperiale. La chiesa non venne subito dedicata a San Bartolomeo, ma il primo santo titolare fu Santa d'Alberto da Praga, che l'imperatore Ottone III conobbe proprio qui a Roma e che divenne il suo confessore spirituale. Subito dopo decise di portare all'interno della chiesa altre reliquie dei santi e in particolare proprio il corpo di San Bartolomeo, che all'epoca era costudito dalla città di Benevento, ma i beneventani ovviamente non erano così ben disposti a privarsi del loro santo apostolo e mandarono un altro corpo, quello di San Paolino da Nola. L'imperatore una volta scoperto l'inganno decise quindi di prendersi con la forza il corpo di San Bartolomeo e da quel momento la chiesa venne dedicata a questi tre martiri, per l'appunto Santa d'Alberto, San Paolino e San Bartolomeo. La chiesa di Ottone III non durerà molti secoli. Sappiamo infatti che già nel XII secolo furono necessari dei lavori di quasi completa ricostruzione di tutta quanta la struttura, soprattutto ad opera di Papa Pasquale II, che rifece sia l'interno che l'esterno della chiesa. All'interno creò tutta la zona del presbiterio, la rialzò e creò la cripta sotterranea, mentre all'esterno rifece il campanile romanico, quello che ancora oggi si vede svettare sopra la struttura. Le inondazioni del Tevere però continuarono nel corso dei secoli e sappiamo che arregarono tantissimi danni alla chiesa, in particolare quella dell'anno 1557, che portò via per l'impedo della corrente tantissime strutture sia del convento francescano sia della chiesa stessa. Sono i papi Gregorio XIII e poi Urbano VIII che rifecero tutta quanta la chiesa come la vediamo noi oggi. L'aspetto attuale si deve proprio a questi lavori e vediamo come si presenta ai nostri occhi. L'interno della chiesa di San Bartolomeo all'isola si presenta in modo molto ricco, ci sono quadri, soffitti, linee, stucchi dorati che sono il frutto di lavori di restauro e aggiunte che partono dal 1600 e arrivano fino ai giorni nostri. La chiesa si divide in tre navate nella parte interna, navate che sono separate tra di loro da alcune colonne antiche. Sono queste delle colonne romane che provengono con molta probabilità dall'antico tempio di Esculapio e dai portici del santuario. Una unione tra la struttura pagana e la struttura cristiana è stata trovata nel pozzo che si trova al centro della scalinata di accesso del presbiterio. Era questo un pozzo di acqua miracolosa che ancora oggi scende fino a 12 metri di profondità e che richiamò nel corso dei secoli tantissimi fedeli per sperare in una guarigione miracolosa. Nel Medioevo questo pozzo venne rifatto, infatti lo vediamo scolpito e decorato molto probabilmente dal vassalletto intorno al 1100 e su di esso si trovano le immagini di Gesù, del Salvatore, di Ottone III, l'imperatore che fece la prima chiesa di San Bartolomeo e soprattutto dei due santi titolari, San Bartolomeo e San Paolino da Nola. In anni recenti le cappelle laterali della chiesa sono state dedicate al culto dei nuovi martiri e soprattutto a partire dal 1993 ai francescani minori che per secoli ufficiarono questa chiesa subentrò la comunità di Sant'Egidio. La chiesa venne radicalmente trasformata a partire dal XVII secolo. Furono rifatte le navate, il presbiterio, il soffitto, il pavimento e anche la nuova facciata della chiesa. Il soffitto a cassettoni in legno dorato è del 1624. È decorato con immagini degli apostoli, con putti e con stemmi. I tre riquadri più grandi sopra la navata centrale rappresentano l'Assunta, San Bartolomeo che rifiuta gli idoli pagani e le stimmate di San Francesco, tutte opere ottocentesche del frate francescano Bonaventura L'Offredo, che dipinse anche il soffitto del transetto con scene dell'ordine francescano. Nel moderno pavimento invece si trovano piccole tracce dell'antica pavimentazione cosmatesca, eseguita intorno al 1284. Nella navata destra si aprono le cappelle di Santa Francesca Romana, la cappella di San Carlo Borromeo, la cappella di San Francesco di Assisi. Nella navata sinistra invece ci sono le cappelle di Sant'Antonio da Padova, la cappella della Madonna della Pace e infine la cappella di Gesù Crocifisso. Ai lati dell'altare maggiore si aprono invece le due grandi cappelle accessibili dal transetto. A destra si trova la cappella Orsini di Pitigliano, nota anche come cappella della Madonna. All'ingresso, accanto alle scalle di accesso, si trovano due leoni marmorei romanici. Sul soffitto secentesco si può invece ammirare lo stemma della famiglia Orsini. Le pareti sono affrescate con scene della vita di Maria, eseguite agli inizi del XVII secolo da Giovanni Battista Mercati. Sull'altare si conserva invece un dipinto molto antico, raffigurante la Madonna con bambino insieme a quattro figure, che si date intorno al 1200 e che venne scoperto solo agli inizi del Novecento, durante alcuni restauri. Sotto l'altare si trova invece un paliotto in marmo e le reliquie di Santa Teodora, una martire che nel IV secolo d.C. gettò nel Tevere alcuni idoli pagani. Nella parete sinistra della cappella si conserva inoltre una palla di cannone, lanciata nel 1849, durante la Repubblica Romana, dalle truppe francesi. Miracolosamente non esplose, salvando la vita di centinaia di fedeli che si trovavano all'interno della chiesa. A sinistra dell'altare maggiore si apre invece la cappella di San Paolino da Nola, nota anche come Cappella dei Molinari, perché nel 1626 passò alla confraternita dei Molinari, cioè dei proprietari dei mulini sul Tevere. Questo ambiente originariamente era la sagrestia della chiesa e fu trasformato in cappella soltanto alla metà del Cinquecento. Sulle pareti si possono ancora oggi vedere gli stemmi della confraternita. Ci sono dipinti con mulini ad acqua ed iscrizioni che ricordano i lavori qui eseguiti. Sulla parete di fondo si trova il dipinto raffigurante l'Assunzione di Maria con Santa d'Alberto, San Paolino, Sante Suberanzio e San Marcello, eseguito nel 1655 da un ignoto artista. In questa cappella infatti si conservavano originariamente le reliquie dei Santi qui rappresentati. In un restauro del 1972, nella parte alta della parete, fu ritrovata una annunciazione, databile alla metà del Cinquecento, anche questa di un autore ignoto. Al centro della volta invece è rappresentato San Paolino in Gloria, dipinto nel 1704 come tutta la decorazione delle pareti. L'altare maggiore è un dono fatto alla chiesa da Papa Pio IX nel 1852, che fece trasferire il precedente ciborio con colonne di porfido, realizzato da Martino Longhi il Vecchio, in Vaticano. Il sarcofago di porfido, sotto la mensa, presenta delle protomi leonine e al suo interno si trovano le reliquie di San Bartolomeo. Al centro dell'abside è il dipinto che rappresenta il martirio di San Bartolomeo, eseguito da Francesco Manno nel 1806. Ma questo è oggi quasi invisibile perché proprio davanti gli è stata posta l'icona dei nuovi martiri e dei testimoni della fede del XX secolo, dipinto di Renata Schachy della comunità di Sant'Egidio, legato alla presenza delle reliquie dei nuovi martiri esposte sugli altari delle cappelle laterali. Nel catino absidale invece si vede il Redentore con quattro santi, dipinto di Buonaventura Loffredo del 1865. Sulla parete del transetto destro è inoltre conservato, dietro una grata di ferro, il grande catino di bronzo dove sarebbero state emesse le reliquie di San Bartolomeo durante il viaggio che le condusse verso Roma da Benevento. Nel salone sopra il portico della facciata della chiesa si conserve inoltre un prezioso frammento di mosaico di XII secolo che doveva decorare originariamente la facciata medioevale della chiesa e che rappresenta Cristo benedicente con in mano un libro dove si legge Ego sum via veritas et vita, io sono la via, la verità e la vita, frase tratta dal Vangelo di Giovanni. La facciata attuale, con portico a tre arcate decorato da colonne e nicchie nella parte inferiore e cinque finestre nella parte superiore, è attribuita invece all'opera di Orazio Torriani o di Martino Longhi il Vecchio. Usciti dalla chiesa siamo in questo cortiletto sul fianco della navata della chiesa, si sente il fiume che è proprio qui accanto e qui in particolare possiamo vedere dei frammenti di marmo, di travertino, probabilmente appartenenti all'antico tempio di Esculapio. Ci sono anche delle iscrizioni più recenti che sono state messe qui per decorare questo piccolo ambiente, però adesso andremo a vedere proprio qui sotto delle altre meraviglie che nasconde la chiesa nei suoi sotterrani. Andiamo! Siamo nei sotterrani di San Bartolomeo all'isola Tiberina e ci troviamo in un'area archeologica recente e anche abbastanza inedita. Qui infatti nel 2006 e 2007 scavi condotti dalla sovrintendenza e dall'università La Sapienza hanno permesso di trovare delle strutture romane inedite. Si tratta infatti di due lunghi muri in blocchi di tufo pertinenti con molta probabilità all'antico tempio di Esculapio. Fino a questo momento, fino a questo scavo infatti non avevamo la certezza di strutture pertinenti a questo antico santuario e grazie a questi scavi ora possiamo collocarle con certezza sul terreno e proprio sotto la basilica di San Bartolomeo. Ma dallo scavo sono emersi altri dati molto importanti che ci consentono di capire la trasformazione della topografia dell'isola nel corso dei secoli. Ad un certo punto infatti questi due muri romani vennero uniti l'uno con l'altro da un abside a creare una piccola basilica, una sorta di chiesetta ad unica navata e degli studi recenti hanno identificato con la chiesetta di San Salvatore de Insula, una chiesetta che viene praticamente menzionata una sola volta nel corso del X secolo e che dopo la creazione della chiesa di Ottone III non verrà più menzionata. Molto probabilmente perché questo piccolo edificio ecclesiastico originario venne ampliato a creare la chiesa di San Bartolomeo. Siamo nel cuore della cripta, l'ambiente centrale, quello con l'abside, quindi l'ambiente più importante di questo sotterraneo splendido di San Bartolomeo all'isola di Berina. Parlavamo prima della chiesetta San Salvatore de Insula, sappiamo appunto che fu precedente alla costruzione di Ottone III che nel 998 decise di ampliare questa piccola chiesetta e accanto all'abside decise di mettere due navate che saranno poi le navate laterali appunto della chiesa attuale e quindi di creare una chiesa monumentale. Dedicò questa prima chiesa come sappiamo al suo amico Vescovo di Braga, Santa d'Alberto, portando appunto le sue spoglie, le sue reliquie all'interno della chiesa. E proprio in questo ambiente centrale c'è un unicum come struttura muraria. Sotto i nostri piedi infatti coperto da una lastra di vetro c'è la cosiddetta vasca. Questa vasca, secondo altre ipotesi, sarebbe addirittura pertinente al Tempio Romano, al Santuario di Esculapio, dove forse gli ammalati facevano il bagno per cercare la guarigione dei loro mani. È molto più probabile invece che questa vasca, costruita al tempo di Ottone III, servisse per ospitare le reliquie dei martiri, quindi il corpo di Santa d'Alberto e i martiri che successivamente vennero portati all'interno della struttura, come San Paolino da Nola, come ovviamente l'apostolo Bartolomeo, dal quale prende il nome la chiesa attuale, e poi altri martiri come Santa Abbondanzio, Santa Teodora, eccetera, il che spiegherebbe le dimensioni di questa vasca per ospitare queste importanti religie religiose. In quest'abside, oltre alle strutture appena descritte, troviamo altri due particolari, in un certo senso la firma di Ottone III, l'imperatore che costruì appunto questa chiesa. Si tratta di queste colonnine che vedete qui a incorniciare, in un certo senso l'abside, e sono colonnine ovviamente romane, quindi riprese da edifici romani, probabilmente dal Tempio di Esculapio, che hanno però questo capitello molto particolare dove compare questo rilievo di un'aquila. Si tratta per l'appunto dell'aquila imperiale che è il simbolo di Ottone III, l'imperatore che fece la chiesa. Oltre alle colonne con i capitelli, col motivo dell'aquila imperiale, sono state trovate in queste murature che sono poi state messe per sostenere il peso della chiesa superiore, anche altre colonnine che si trovano proprio intorno a questa vasca, la cosiddetta vasca di cui abbiamo parlato prima, che doveva contenere queste religie. Incorniciavano in un certo senso il luogo più sacro, il luogo più importante della chiesa. Nel 1113, durante il pontificato di Papa Pasquale II, la chiesa venne quasi integralmente ricostruita, probabilmente perché l'antica struttura era stata danneggiata dalle inondazioni o dalle alluvioni del Tevere. Si decise però di mantenere questa parte della primitiva chiesa terra trasformandola in cripta sotterranea. Per fare questo venne costruito un lungo muro che divise questa zona dal resto delle navate e vennero create poi delle ripartizioni ai lati dell'abside mettendo delle colonnine che si sono sopravvissute nel corso dei secoli. Negli ambienti adiacenti sono state trovate inoltre delle sepolture, come quella settecentesca del Cardinal Cozza, insieme addirittura ad altre epigrafi romane che si sono conservate in alcune murature della chiesa. Per accedere a questa cripta sotterranea venne fatto un ingresso e questo ingresso è stato ritrovato negli scavi che sono stati fatti qui nel 2007. E' stato ritrovato alla fine della navata sinistra, grazie al recupero di alcuni stipiti di questa apertura che consentivano ai fedeli l'accesso alla cripta sotterranea. Eccoci, stiamo arrivando all'ultimo piano del campanile di San Bartolomeo, l'isola di Berina, costruito insieme al resto della nuova chiesa medievale intorno al 1113 da Papa Pasquale II e da quassù la vista è mozzafiato, veramente spettacolare, oltre ad avere una bellissima visuale sul Ponte Cestio, il Ponte Fabricio, il Tevere e tutta l'isola lo sguardo spazia dal Vittoriano, da Piazza Venezia, dietro alle nostre spalle c'è il Palatino, si vedono le rovine, l'Aventino e dalla parte opposta il Gianicolo, insomma una veduta a 360 gradi dal cuore di Roma. Oltre ad ammirare questa vista spettacolare che ci circonda possiamo notare alcuni dettagli decorativi e in particolare sono queste finestre, le cosiddette trifore, cioè composte da tre archetti che sono caratterizzate dalla presenza di alcune colonnine di marmo, ovviamente si tratta di colonnine di marmo antico che sono state riutilizzate da monumenti dell'antica Roma e rimesse appunto qui sul campanile nel Medioevo. A completare appunto queste trifore ci sono anche dei capitelli medievali rilavorati, in particolare alcuni con dei motivi vegetali che decorano queste finestre. Sull'esterno della torre ci sono inoltre dei dischi di marmi colorati insieme ad alcuni vasi di ceramica che sappiamo i frati francescani che ufficiavano la chiesa fino a qualche anno fa portavano dai loro viaggi e mettevano sul campanile per decorare questo loro monumento prezioso. Grazie a tutti!